Piccoli dettagli che fanno la differenza. I naselli degli occhiali passano spesso inosservati, ma sono fondamentali per comodità e anche per estetica. EGAL si è specializzata nella lavorazione di questi piccoli oggetti che, realizzati in plastica, possono essere personalizzati a piacere dai grandi produttori dell'occhialeria di lusso. EGAL, il marchio distintivo nel mondo del lusso. EGAL.